Un'operazione antidroga dei carabinieri denominata Flash 2009 è stata portata a termine nei confronti di un'organizzazione internazionale di matrice bulgara responsabile dell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Peru e di eroina dalla Bulgaria. I militari del ROS hanno eseguito 40 ordinanze di custodia cautelare in carcere richieste dalla procura distrettuale antimafia di Milano nei confronti dei componenti dell'organizzazione radicata nel capoluogo Lombardo che si avvaleva di base anche a Roma, in Olanda, in Spagna, Bulgaria e Slovenia. La droga liquida veniva impregnata in capi d'abbigliamento e poi estratta in appositi laboratori. Le indagini sono iniziate nel 2009 e hanno portato a tutta una serie di arresti e sequestri nel corso degli anni per complessive 6 tonnellate di droga. Le accuse a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzioni di armi e acquisto con banconote contraffatte con l'aggravante della trasnazionalità del reato. Le 40 ordinanze sono state eseguite in Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche e Lazio. Al vertice dell'organizzazione c'era il presunto narcotrafficante bulgaro Georgi Todorov. Le indagini avviate nel 2009 in stretta collaborazione con la polizia slovena hanno consentito di individuare la struttura responsabile dell'importazione di cocaina dal Peru. L'eroina afghana veniva invece reperita in Bulgaria, mentre l'Hashish risultava acquistato direttamente sul mercato interno. In Europa l'organizzazione, che vantava anche un'ampia disponibilità di armi clandestine, aveva realizzato le proprie basi in Spagna e Olanda, da dove la cocaina veniva introdotta nel territorio nazionale, utilizzando corrieri prevalentemente attraverso gli aeroporti di Milano, Varese e Roma. Nel capoluogo Lombardo e nella capitale un'altra componente della banda era incaricata dell'assistenza legale e del reperimento di appartamenti da utilizzare per lo stoccaggio della droga, in attesa della commercializzazione o per essere usati come laboratori per l'estrazione e la raffinazione della cocaina liquida dai capi di abbigliamento o dai prodotti di artigianato. La droga poi veniva commercializzata in Olanda, Germania, Slovenia, Bulgaria e in Italia sui mercati Lombardo, Laziale, Emiliano-Romagnolo, Toscano e Pugliese. Grazie 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 Grazie